bentornati a beyond two souls allora eravamo rimasti qui con la povera jody che non è tanto convinta di andare alla festa di compleanno di questa sua amica credo a cui ha portato un libro di poesie di Poe non so se il dottore sa cosa piace alle ragazze di questa età però può essere può essere che sia una mia idea che questo libro non sarà largamente apprezzato e che cos'è signora sì ecco nemmeno sa cos'è già non le piace dai andiamo possiamo controllare un po a casa di cioè viene a frega niente del regalo ma birra analcolica spero no mi sa che non è all'analcolica la birretta ok andiamo a fare amicizie con qualcuno ma non mi sembrava il caso sinceramente bene le tapparelle che scendono così no non mettete la musica per favore ragazzi per favore non accendete la musica vi prego vi prego perché sennò questa scena sarà tutta tagliata ah cosa puoi fare con le candele a guardare aspetta e non ho visto e non ho visto perché non lo sapevo e mi hai fregato gioco non lo sapevo io preferirei farmi gli affari miei non voglio socializzare con nessuno eh vabbè speriamo che non si senta invece si sente pensate che culo eh beh vedremo se c'è da toglierla la tolgo ah quindi è riuscita a procurarsi la birra no 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 non la voglio la birra ma va a cagare va povera povera cretina eh vabbè va bene quindi qua no 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 non ti faccio prendere la birra mi dispiace non mi interessa ecco bravi voi ballate dunque che altro si può fare posso guardare qua no posso fare niente mi sa che devo sedermi per forza a guardare di che cosa no non voglio niente non voglio la vostra merda non volevo neanche venirci qua te siedi questa qua sta troppo appiccicata sì t'ho visto mi sono presentata prima vedi un po' te non ho mai visto a scuola prima non ti faccio a base non ti faccio a base? eh sono in un progetto diverso con mio amore ecco certo perché sicuramente non avevo visto tu prima quindi hai lavorato con la madre di Kirsten ehm 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 ma ha fregato di nuovo il gioco ehm Do you have any hobbies? Anything you do for, like, fun? I surf, any chance I get, and I play in a band with a bunch of friends. Eh, chi se ne frega, anche. What are you into? Eh, nothing special. I read a lot. Che è una cosa migliore. No, non è boring. Can I ask you something? Why are you in unit four? Eh, non dire. No, 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 no. No, assolutamente, non mi freghi più. Esatto. Non sono affari tuoi. No. No, io ho detto di no, però, eh. Gioco, subia. Avevo detto di no, comunque. Vabbè. Questa era scriptata, ovviamente. Eh, devo fare tutto. Non posso evitarlo. Eh, quello è distant. Ma... Cioè, vedi, vedi. Vedi che sei un cratino. Ma, cioè... Ma, cioè... Thanks for the dance, Matt, but I think I'll pass. Esatto, cioè... Ed è solo intelligente. Vai, Matt, vai. Oh, grazie per aver spinto la luce. Guarda, guarda lui come è già diventato una merda, no? Perché non abbiamo voluto baciarlo. Eh, rifiuta assolutamente. Anche perché se fai casino... I don't have anything to show. I told you so, guys. It's all bullshit. Esatto. Right, okay, guys. It's time to eat that delicious cake. And most important to open my birthday gifts. Adesso il dottore ci avrà fatto fare una figuraccia. È sicuro che non le piace il libro. Ma sicuro. Love, Jen, XXX. Oh, that's nice, babe. I bet it's knee socks. Che cos'è? Oh, madonna. Ma in quella scatola c'era dentro il perizoma. Cioè, una scatola gigantesca. Dai, apriamo quello di Jodie. Eh, imparassi a leggere. E' pieno di stereotipi, sto... Sto gruppo di persone. Io mi auguro che i ragazzi siano più intelligenti di così, però magari no. Eh, questa è un po' esagerata come scena. Ah, guarda la merda, guardala. Adesso gli uso i poteri, ragazzi. Eh, se non bruciano loro prima te. Non sapevo che erano delle merda. Non sapevo che erano delle merda. Dai, usiamo i poteri, Jodie. Jodie, chiama Aiden. Forza. Forza, usiamo i poteri, usciamo di qui. Buttiamo giù la porta. Jodie, ma cosa ti metti a piangere a fare? Jodie, no, non doveva finire così. Get me out of here, please. Aiden. Ma non dovevano neanche metterti le mani addosso, ste merde. Non so se, dipende dal fatto che noi abbiamo rifiutato di essere socievoli, quindi è ancora peggio, cioè nel senso, se essendo socievoli non succedeva tutto questo, è veramente terribile, anche come scelta di gioco. Ma, oh, eccolo. Sì, sì, sì. Forza, andiamocene, andiamocene, Jodie. Dai. Revenge. Sì, 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 facciamolo. Non mi interessa. Non mi interessa assolutamente. Dove posso colpire? Dove posso colpire? Direttamente da qua? Aspetta. Qua. Toh. Schifosi. E adesso me ne vado. Adesso me ne vado. Posso andare o ne no? C'è ancora altro che posso fare? Lo carichiamo al massimo e vai. Vai, vai. Vai, cretina. Vai, cretina. Vai, vai. Adesso mi trovate lì davanti a voi. Ah, neanche. Ve l'ho chiusa. Quanto vi sta bene. Aspetta, aspetta. Perché continuo a uscire? Non lo so. Così. No, 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 no. Ho sbagliato di nuovo. Ho visto, ho visto cosa potevo fare. No, no, no. Ho visto cosa potevo fare. Ma mi sono sbagliato, ovviamente. Crettini. Oh, quanto ti sta bene. Speravo, speravo. Speravo di riuscire a colpirti. Aspetta, aspetta che facciamo qua. Vai. Eh, vabbè, ma questo non è che sia questo granché, eh. Aspetta che voglio vedere se riesco... Ah, te, te, te. Che sei una merda. No, perché? L'ha caricato male, mannaggia. Se n'è andato lo stronzo. E tu non hai niente da tirare... Ah, qua, qua, qua. No, ma qua cosa posso fare? Ah, non posso... Ah, te, te. Ma a te ancora non ti ho colpito. Aspetta, qua. Questa cretina che sta sotto il tavolo. E vediamo qua se posso fare qualcosa a lui. Ah, sì, sì, sì. No, 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 no. Girati, girati, girati. L'ho trovata, l'ho trovata. Qua. Ma perché con lui non riesco? Ma non è giusto. Ma mi, mi... Non è giusto. Qua. No. Qua. Ma... No, veramente, eh. Oh, te, te sta bene. Poi cos'altro? Tu, io seguo te. Tu, tu devi pagarla. Ecco, qua dietro. Oh, quanto ti sta bene. Una bella bastonata in testa. Brutta merda. Adesso, qua. No, che cos'è? Ah. Uh, ho dato fu... No, 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 non diamo fuoco alla casa perché poi peggiora la situazione a noi. Ecco, basta. Adesso ce ne andiamo. Sì, esatto, andiamo. Esatto. Andiamo, andiamo. 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 Eh, non... Non so... Non so come farti uscire. Andiamo ce ne... No, forse Aiden non vuole andarsene. Quello è il problema. Andiamo. Ok? Mi sa che era l'ultimo. Ce ne andiamo adesso, dai. Li abbiamo... Abbiamo punito tutti quanti. Basta. Adesso possiamo andarcene. Esatto. Oh, coglioni. Imparate la prossima volta. Chi è questo? La madre. Vai. Questo dovrebbe essere Nathan che l'altra volta non capivo chi era Nathan. Questa è colpa del tuo libro di Edgar Allan Poe. Eh, insomma. Ma figuriamoci se la facevo andare via senza vendicarsi. Ma pensa te. Brutte merde. Chi la fa l'aspetti. Se siete capaci di fare i bulli, allora dovete essere anche pronti ad essere bullizzati. Brute merdacce. Oh, quanto sono soddisfatta. Didn't get drunk. Push Matt away. Eh, infatti. È quello che... È quello che stavo dicendo prima, no? Se il gioco prevedeva il fatto di essere socievole, e quindi se ero socievole, lo baciavo e tutto quanto, poi andava tutto bene, che tristezza. Il non essere stata socievole ha provocato tutto ciò, quindi che tristezza al quadrato, al cubo, anzi. Perciò veramente persone di merda, persone assolutamente di merda. Vediamo, ho rifiutato di fumare, ho nascosto i miei poteri, non ho dato la dimostrazione, quindi sono stata anche in quello molto, secondo loro, molto scortese, e non ho bruciato la casa. Vabbè, dai, quello, ok. Evitiamo di fare carry fino in fondo. Avrei potuto, perché sinceramente erano state veramente delle merde, però non esageriamo via, anche perché poi ci andiamo di mezzo noi. Comunque questo è il tono che darò al mio gameplay, perché se ho dei poteri del genere non si scherza, non si scherza. Eh, vabbè, ma Aiden... Eh, quello che vorrei sapere... Ok. Ok. Va bene. Va bene. Alzati. Quello che vorrei capire, appunto, è se Aiden... Io ho questa idea, che mi sono già fatta dal primo episodio, che Aiden sia una parte di lei, magari, non lo so, un gemello che non è nato, una persona che le è mancata e che adesso è entrata dentro lei, cioè un'anima... Con una volontà sua, ecco. Però non so se è una persona, un extraterrestre, o semplicemente proprio un potere. Il mio nome è Nathan. Ah, non ci conoscevamo ancora qui? Ok. Ah, quindi quella è la nostra madre che ci manda dal dottore perché facciamo casini con Aiden. Ok. Posso sedermi? Boh. Eh, l'avevo capito. Io sono posseduto dal demonio. Eh sì. Ma lei avrà... E io... Io... Shrago. Eh sì. Però non te lo dico. Non te lo dico. Ah, beh, ma magari lui sta capendo lo stesso. Ecco, è questo che mi chiedo io. Forse una persona che lei... A cui lei voleva bene. Ti conviene, forse... Ti conviene, forse... No, preferisco di no. No, show up se tu fai qualcosa di male alla ragazzina. Non credo. No. No, non è stato lui. That was the monster. Oh. C'è anche quest'opzione dei mostri? Chi sono i mostri? Magari sono esseri umani i mostri. Che lei conosce. Hmm. No, non gli ho detto niente di Aiden perché io sono sempre per tenere per sé queste cose. Anche se si è molto piccoli. perché conviene che il potere sia meno conosciuto possibile, ovviamente. Visto che noi ci difendiamo pure con questo potere. Ma no, welcome to the CIA. È fantastico. Cioè siamo andati da qui, da piccoli, subito a lavorare per la CIA. Fantastico. Quindi Aiden ad un certo punto l'ha scoperto. Cioè l'ha scoperto parecchio perché tutti sanno che cosa fa lei se l'hanno presa la CIA. Anche tu mi senti patico, sappilo. Ok, adesso ci dobbiamo allenare. Oh mamma. Oh mamma. Sotto? Sotto. Ok. Oh mamma. Adesso qua cadrà. Cadrà tantissimo. Come faccio ad andare avanti? Sotto. Usa il tuo momento per spingare. Ok. Ma perché? Hai dovuto fare questa cosa? Ah vabbè. Era prevista. Va bene. Eh no, giù, giù. Holmes. Ma si chiama Jody Holmes? Oh mamma. Adesso devo anche picchiare la gente. Va bene. Io non mi ricordo i tasti come al solito. Follow Jody. Ok. Ok. Quando è in slow motion. Vai. Vai. Ma me lo dici tu quando? Ok. Vai. Bello. Beh oddio. Essere così fieri anche no. Però. Va bene. No ho sbagliato. Scusami. Scusami Jody. Ho sbagliato tantissimo. Dai. Eh. Te hai visto. Te hai visto. Bene. Take cover. Ah. Oh mamma. Ma io non sapevo che c'erano anche queste opzioni in questo gioco. Andrà male. Andrà male. Ok. Cover. Eh. Bene. Poi. Più avanti. Ok. Eh. Oh. Ha fatto tutto da sola. Menomale. Eh. A. Ok. A. Vai. Adesso l'altro. Giusto? No. Sempre RB. Ok. Wow. Ancora? A. E poi RB subito. Vero? Sì? Nice. Eh. Jump. No. No. Preso? Ah. Ok. Non male. Ma poi dovrò farlo anche nella vita reale. Ah 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 ah. Beh queste sono cose ancora più interessanti dell'addestramento fisico. eh. Sei molto intelligente. Non so perché ti dovevi ti dovevi mischiare a quelle merdine con cui ti ha fatto mischiare quel cretino del dottore. Allora. Eh. Ok. No. Ho sbagliato tasto. Scusa. Ok. Ok. Poi. Altro qua. Qua. Eh ma uno per volta. Posso anche farlo con più. Più cose per volta. Eh. Posso fare tutto un bel lavoro in acqua. Eh vabbè. Dobbiamo saltare questi. Un po' più forte però. è solo che lei sta male quando fa sta roba. Questo è tutto l'addestramento. Oh mamma. Le prenderò di brutto. Ma le prenderò di brutto. Eh. Questa non c'entra con Iden però eh. Questa è tutta bravura sua. Non ti distrarre. Cosa guardi e sorridi ma io boh. Ah e vai vai vai. Forza forza forza. Vai vai vai. Vai vai vai. Vai da sola. Ok. Qua giù. Ok. È difficilissimo eh. Ora. Vai vai vai. Vai vai vai. Eh un attimo. Eh un secondo. Mi sto organizzando. Signore. dai di là. Vai. Ah 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 ah. Eh giù. Nice. Ancora. Ah questo mi sta facendo vedere che è tutto un addestramento. Ma scusami eh. Avevo schiacciato giusto. Ho schiacciato giusto. Devo schiacciare ripetutamente? No. Ah. Eh ma l'avevo fatto eh. Ah forse perché devo fare piano piano. Oh si è strappata. scusami. Scusami. Ma devo. Mantieni le due due cose nella nella ferita. Eh non riesco. Ok. Ah Aiden è anche guaritore. Fantastico. Ma fantastico. però eh cosa ne sapevano che mi sarei fatto male. Sì però anche basta Jody mamma mia che cos'è. Uh ok. Doppio colpo. io spero che questo rallentatore ci sia sempre poi anche nel corso del gameplay in generale perché se no ma va a cagare va vieni qua a farlo te cretino. Mamma mia sarà distrutta. Però che figata l'addestramento. No. No. Aiuto. Ma posso usare Aiden perché mi servirebbe. Posso usare Aiden? Ok. Perfetto. Aspetta aspetta che adesso vado a cercare perché c'ho il percorso da fare. Dove vado? Di qua? No. Non posso? Allora l'ho tirato fuori troppo presto. Va bene. Eh. Devo prima fare per i fatti miei. Eh. What? Ah. Usa Aiden quindi posso distrarre il nemico. Ok. Ok. E adesso posso andare? Sì. Brava. Che figata. Oh mamma mia. Ma non è un addestramento allora questo? Cioè qua stiamo facendo sul serio allora. Andiamo? No. Ho sbagliato. Come ho sbagliato? Ho sbagliato tantissimo. Quello adesso rimane in giro mannaggia. E? No? Devo usare Aiden? Vediamo se devo usare Aiden. Eh là. Vediamo. Ecco. No. Eh ma beccato perché non l'ho non l'ho non l'ho fregato prima. È perché non l'ho fregato prima. Quello mi ha fregato. Ok. No. Grazie. Allora, di qua. Dunque, allora, adesso usciamo e andiamo lì. Eh, no. No, 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 aspetta. Oh, ma che palle. Eh, come faccio? Eh, non posso, non posso liberarmi di questo qua. Quello mi vede. Aspetta, aspetta. Però prima l'avevo fatto, forse. Aspetta, fa vedere. Prima, prima ero riuscita a fare sto lavoro qua. Adesso prendiamo lui. E dovrei essere riuscita, giusto? A prendere la bandierina? Devo prendere la bandierina? No, chi c'era d'altro? Ma chi c'era d'altro? Te non ti... Esatto. Ma perché? Perché sta puntando la pistola anche l'altro? Mamma mia, quanto mi sta sul culo. Ma cosa lo ringrazi? Un'ora e mezza ci abbiamo messo. Ma certo che vi dovete congratulare. Va, 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 quante... Quanti achievement che ho preso. Soldato perfetto, lottatrice apprendista. Va bene, va bene. Andiamo avanti e direi che chiudiamo l'episodio qui. Hunted. Ok. Grazie a tutti.